Educare alla consapevolezza del rispetto delle regole del codice della strada fin da primi anni di età. È questo l'obiettivo di Motoriamoci, l'iniziativa di educazione stradale Guida Sicura, organizzata dall'Associazione Motociclistica Eretina rivolta ai bambini delle scuole elementari del territorio. Attraverso la promozione di una corretta condotta di guida, l'Associazione mira a contribuire a prevenire buona parte degli incidenti che tuttora si verificano nelle strade del nostro paese. Alla guida di quad elettrici con l'assistenza di istruttori esperti, i piccoli piloti hanno percorso un tracciato completo di segnaletica stradale, allestito per l'occasione in piazza Sai Jacopo ad Arezzo. Una giornata dunque all'insegna della sicurezza stradale, ma senza dimenticare il divertimento. In piazza, assieme all'Associazione Motociclistica Eretina, anche gli agenti della Polizia Municipale La Misericordia e La Croce Bianca.